Ma perché non riservate il taxi all'albergo? Siamo già in ritardo, lo sai che a stafari domenica odiano anche se arrivi in ritardo. Ci sono taxi dappertutto in Milano, non c'è problema. E tu cosa ne sai? È tutto. La moda, risotto, peledone. Taxi! Buonasera, igold è il piazza risorgimento. E per favore un po' in fretta che siamo più in ritardo. Grazie. Come noi. Do you want to see Bob, Pheeclare? Ehi! How are you? I'm doing, babe! I'm getting getting... Getting getting... I'm getting... Scusi signorina, questo è il mio primo giorno come tassista a Milano. Io non sono di Milano, non conosco bene la città, ma non si preoccupi perché ho la cartina. Questo non è possibile oggi. Scusi, 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 scusi. Allora, allora, allora. A far l'amore comincia tu, a far l'amore comincia tu, se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto d'aglio non è dietro a lui, fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. Scusi, mi scusi, ci può costare perché magari è meglio prendere un testista che conosca Milano? No, non si preoccupi signorina, in cinque minuti ci siamo, non si preoccupi, se fidi ho la cartina. Guardi che piazza di esergiamento dall'altra parte, vicino di Ale Bianca Maria. Non si preoccupi signorina, io ho la cartina e so perfettamente dove sto andando. Lei non è stato che stiamo andando, stiamo ad avversare l'apporto di Dillate. Signorina, l'aspetta di cliccare le mie porte. No, lei non lo sa. Don Sinclair. A far l'amore, a far l'amore, come c'è. Mi fai smettere di cliccare. No… Sì, non è giusto che lei è gruiale. Lei non sa assolutamente dove stiamo andando. Calma, 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 calma! Non ti hai ragione, pomerino! C'è qualcuno? C'è qualcuno? Non c'è più nessuno! È stata la serata più romantica della mia vita! Grazie! Andiamo a letto? Andiamo!